In Irpinia si sperava nell'elezione di almeno quattro parlamentari e con l'entrata del Democrat Tony Ricciardi per la circoscrizione esteri le attese non sono state disilluse. Il centrodestra all'uninominale con l'ex ministro democristiano Gianfranco Rotondi 32,91% alla Camera e Giulia Cosenza 35,72% già deputata nel 2006 e nel 2008 e coordinatrice Irpina ai tempi del PDL al Senato hanno dato forza al vento di una provincia che sta cambiando volto. Un risultato storico per gli Irpini anche in virtù dei forti competitor contro i quali il centrodestra ha dovuto misurarsi. Il consigliere regionale Carlo Iannace, grande escluso di questa corsa elettorale, è il suo collega di partito Maurizio Petracca. Nonostante la bocciatura dei seggi entrambi hanno ottenuto degli ottimi risultati. Il candidato alla Camera dell'uninominale Maurizio Petracca ha ottenuto il 30% dei voti pari a 55.305 consensi. Al Senato il consigliere regionale Carlo Iannace nel collegio Irpini a Sannio ha ottenuto più di 80.000 voti con quasi il 27% dei consensi. Un ottimo risultato anche nel capologo Irpino dove il senologo ha collezionato ben 10.548 voti pari al 41% dei votanti, anche se non è bastato a battere Giulia Cosenza. Per i pentastellati esce vincitore dal proporzionale grazie alla posizione di vertice negli elenchi bloccati dei partiti il rieletto pentastellato Irpino Michele Gubitosa, per lui il 25-88% dei consensi. Nel proporzionale passano Piero De Luca in lista democratici e Susanna Camusso, ex leader della CGL, entrambi eletti grazie ai listini. Niente da fare per gli artirpini come l'arianese Giuliana Franciosa e il sindaco di Chiusano Carmine De Angelis. Niente da fare per gli artirpini.